alè 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 bam dia rieccoci qui a parlare di all over il nuovo servizio che tra le altre cose sarà in abbonamento l'abbonamento che prevede l'hot goal l'all over e lo sviluppo di una strategia nel corso del tempo in maniera veramente molto particolare meticolosa una cosa che in italia si sognano coloro i quali sono marketizzati fino al midollo osseo e quindi vedremo veramente quello che serve per guadagnare dalla trading sportivo l'hot goal sta andando molto bene sta andando molto bene l'all over probabilmente ci saranno delle altre novità queste le partite date fino a questo momento sviluppate fino a questo momento dall'all over e le varianti operative sono diverse qui perché si può ovviamente bettare bettare con tanta tanta sostanza si possono fare delle multiple estremamente interessanti si può fare un sistema che comprende un certo una certa somma di denaro per andare poi a sviluppare un'operatività su più partite fino ad arrivare al proprio target per poi chiudere quel cerchio di denaro compresso una cosa un po' particolare che vedremo anch'essa nell'abbonamento ne vedremo tante di cose e sarà un abbonamento in cui voglio voglio pretendo posso voglio che la persona sia altamente soddisfatta e a tal proposito con ogni persona ci sarà la possibilità di confrontarci settimanalmente su quello che stiamo vedendo e quindi oltre all'operatività stessa andremo poi a confrontarci potrà essere un canale telegram per chi vorrà ovviamente per chi vorrà esporsi per me molto importante la riservatezza e quindi anche nei canali telegram non mi piace mettere tutto nel mucchione le persone che vedono chi sono e quant'altro mi interessa la massima riservatezza e quindi coloro i quali vorranno ok coloro i quali non vorranno però ci sarà la possibilità di ovviamente dialogare anche telefonicamente settimana per settimana l'all over ha visto fino a questo momento 37 match vinti 35 persi due magari qualche giorno lo faremo anche pubblico e quindi vedremo la bontà dell'all over e le varianti operative sono tante sono diverse quando si parte quando abbiamo la radice buona la radice fertile poi tutto il resto viene da sé l'all over come l'hot goal perché anche l'hot goal ha più varianti operative eventualmente la scalol over sappiamo che è un protocollo che ha più varianti operative quindi fondamentalmente quando noi abbiamo un buono studio alle spalle poi arrivare a fare una trading sportivo o un betting profittevole è la conseguenza di quello studio se poi nel dutching piuttosto che nell'exchange e in certi tipi di operatività ci mettiamo pure la dinamica del match della partita vediamo il match e sappiamo leggere gli indicatori e sappiamo leggere la partita nel corso della stessa e conosciamo le squadre che tradiamo e allora diventa veramente tanta roba ma io penso che nell'abbonamento vedremo anche diverse cose di questo tipo di questo genere più saremo più cosa vedremo e quindi abbonatevi in massa chiedetemi informazioni contattatemi telefonatemi sarà un servizio totalmente trasparente totalmente trasparente e quindi quello che ci sarà ci sarà e poi se andrà male pazienza perderemo tutti i soldi brucieremo i conti lo chiameremo TTL on fire brucieremo tutto no è un peso brucieremo tutto anche perché le cose stanno andando piuttosto bene nell'ultimo periodo complessivamente insomma del trading online è un canale che ormai è da dieci anni su youtube e quindi e quindi vi aspetto vi aspetto tvs 20 22 chiocciolalibero.it oppure al 348 75 670 55 riscorro la grafica con tutti questi begli over 1 e mezzo pensate alle progressioni pensate a metterli in multipla pensate a farci un buon exchange insomma diventa un discorso molto interessante anche sul correct score attenzione perché tutti questi over 1 e mezzo chiamano anche la possibilità di andare a scartare lo 0 a 0 lo 0 1 e l'1 a 0 e quindi già a partire con un correct score di questo genere io vado a scartare certi risultati e poi posso lavorare sugli over e poi posso lavorare sui risultati esatti andando in progressione nel corso del match quindi le varianti operative sono veramente tante sono veramente tante la cosa importante è studiare la base quando noi abbiamo una buona base poi dalla base sviluppiamo il resto per sviluppare il resto ci vuole anche un po di pazienza per avere la giusta confidenza nell'andare a far sì che il nostro protocollo operativo sia un protocollo operativo professionale e di un certo tipo